Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video per le guide didattiche intendo spiegare il funzionamento di CamStudio, un programma facilissimo da usare e molto utile per creare videoclippe, videolezioni, esposizioni, foto commentate e quant'altro vediamo come funziona CamStudio CamStudio ho scelto la versione 2.0, una vecchia versione perché si installa facilmente da XP fino a Windows 10 le funzioni che ci sono sono quelle che ci servono, non ci serve più di quello che dà una volta fatto doppio clic e avviata l'installazione CamStudio lo troveremo nei programmi aggiunti recentemente e con un doppio clic sull'icona del desktop si apre questa finestra questa è la finestra di CamStudio, da qui si decide tutto quello che si vuole fare se si vuole registrare tutto lo schermo, una regione o una parte le opzioni, io ho scelto subito, usa il microfono per poter essere sicuro che registro anche la voce e ho scelto, in questo momento lo scelgo, di dare un'evidenza al mio mouse con una pallina gialla per aiutare a seguire la conversazione, quello che dico, bene adesso dovrei avere la pallina gialla lascio perdere le altre funzioni perché mi interessano poco, è un approfondimento successivo parla solo di questo bottone che permette di scegliere il formato finale se avi o flash io consiglio avi però prima di cominciare a fare il video didattico come esempio voglio ricordare che va sempre controllato con il tasto destro nella funzione dispositivi di registrazione e riproduzione se sono operativi, quindi basta cliccare, ecco qua ci sono gli altoparlanti, operativo tasto destro, riproduzione di registrazione, come si vede c'è un microfono USB che è quello che sto usando e che come vedete mi mostra dal V-metro la sua funzione adesso faccio un'ipotesi, un esempio, una simulazione di quel che può essere una video lezione ad esempio prendo una mappa e la voglio commentare, parlo del seggente delle nevi questo è utilissimo dal punto di vista didattico per mandare a casa i ragazzi del materiale, dei prodotti fatti a scuola, in classe, ma anche per abilitare i ragazzi ad essere capaci di supportare una argomentazione non una interrogazione, argomentare su un argomento, attraverso delle fonti, attraverso dei materiali che loro raccolgono, organizzano, meglio se in gruppo ecco questa è una mappa fatta da una ragazzina preparandola per la terza media per l'esame e potrebbe averla commentata e anche parlare, aggiungere com'era l'Europa nel 1940 agli albori della seconda guerra mondiale CAM Studio registra tutto quello che si presenta sul monitor una volta avviato, tutto ciò che avviene sul monitor viene registrato dal programma insieme alla voce la cosa interessante è che possiamo registrare anche pezzi di video come si vede lui sta registrando il monitor e anche l'audio se io voglio tolgo l'audio come avete visto che faccio e parlo io a commentare qui si vede il tipo di guerra che è avvenuta una guerra estenuante una guerra infinita per quel che riguarda la campagna barbarossa insomma credo di aver dato conto della possibilità didattica di CAM Studio è uno strumento che io consiglio molto di usare in quanto è veramente estremamente semplice alla fine si clicca stop e nel salvataggio si sceglie la posizione di salvataggio il file che produce è un file abbastanza grosso perché è un AVI però sappiate che potete caricarlo su YouTube e poi condividerlo con i ragazzi in modo privato o in modo pubblico attraverso la rete non c'è altro da dire CAM Studio nella versione che sto raccontando è il programma installato ma il programma si può anche presentare portatile ed è identico non cambia niente semplicemente il programma portatile per avviarlo dove c'è crea video lezioni eccolo qua CAM Studio basta cliccare su Recorder e si apre la stessa identica finestra quindi diciamo la videoguida può andare bene sia per il programma installato sia per il programma portabile perché per far partire CAM Studio basta cliccare sull'esecutivo Recorder c'è scritto anche applicazione e il programma registra registra tanto quanto che sia installato o che non sia installato direi non c'è altro da dire c'è solo da sperimentarlo e rendersi conto della comodità dell'usabilità e della facilità di questo strumento che permette di creare delle video lezioni e portare a casa da scuola la didattica per una rilaborazione calma serena con tutto il tempo che ci vuole in particolare per i ragazzi con disturbo specifico di apprendimento per le guide e i programmi didattici CAM Studio Francesco Fusillo buona sperimentazione grazie a tutti